Forse mai come ora la tensione è stata alta tra la SVP della periferia e la direzione del partito, nodo del contendere la riforma sanitaria elaborata dall'assessore provinciale competente a Marta Stoccher, della quale non molto si sa ma ciò che si vocifera risulta inaccettabile, in Alta Venosta, in Alta Posteria e in Alta Valdisarco. Il riferimento è alla possibile chiusura dei punti nascita a Vipiteno, Silandro e San Candido. C'è sazione dell'attività che in molti danno ormai per certa, potrebbe forse salvarsi ostetricia a Silandro e che nelle zone interessate dalla misura sta provocando non poco malumore. L'ospedale è uno dei più grandi datori di lavoro in tutta la valle, sono centinaia di famiglie che dipendono anche da questo fattore economico, poi naturalmente la gente si preoccupa anche della propria salute, non avendo un ospedale in 80 chilometri di raggio a disposizione non vuol dire poco. Oggi nell'Europa dell'Ovest e quindi sono aspetti che forse qui a Bolzano non sono sempre molto presenti. Oggi il sindaco di Silandro e il suo collega di Vipiteno e l'assessore comunale associale di San Candido sono scesi a Bolzano per far sentire la rabbia dei loro concittadini avverso una decisione forse già assunta che ritengono del tutto iniqua. Intanto anche a Brunico non c'è tanto spazio, diciamo anche lì i letti già adesso sono al limite e quello che ci dicono anche i direttori come Amoff o come tutti gli altri che i spazi al momento non ci sono, non ci sono le capacità per prendere anche la popolazione di San Candido e poi anche per noi che viviamo a San Candido è veramente un lungo viaggio. Chi conosce la strada sa se c'è un incidente e si rimane anche qualche volta bloccati. L'assessore provinciale Marta Stoker giovedì andrà a presentare il suo piano a Vipiteno. Su internet sono state raccolte già migliaia di firme in calcio a una petizione con la quale si dice no alla chiusura dei tre punti nella città. A Vipiteno non si esclude che la gente possa attendere l'assessore sotto l'ospedale e il sindaco di Vipiteno parla di grave errore politico anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali prima fra tutti quello delle comunali nel 2015. Non solo delle comunali, in vista di ogni elezione comunale, provinciale, nazionale la gente vuole la sanità e ha anche un diritto di avere questo riparto nascite.